Roma, palla a volo. I belgi saranno quinti, i ciecoslovacchi primi imbattuti, i francesi secondi, gli olandesi ultimi, i portoghesi quarti e terzi gli italiani. Rivelazione di questo primo campionato. Contro i belgi netta la vittoria dei nostri. Eccoli a sinistra, la scopoletta bianca. Si tratta di vincere tre partite in ciascuna arrivando primi ai 15 punti. Il diapason dell'emozione è stato l'incontro con i francesi. Abbiamo perduto alla quinta partita per 13 a 15. Con i ciecoslovacchi è stato un altro a fare. Sono maestri specialmente nelle schiacciate, fulmine senza possibilità di risposta. È naturale che perdessimo, ma da loro abbiamo imparato sul serio. Il presidente Libò premia il capitano ciecoslovacco, onesti il capitano francese e il nostro montanari persa nella coppa il tonico elisir degli applausi.